bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia anche oggi abbiamo veramente una tonnellata di news per quello che riguarda il futuro di fortnite e i prossimi giorni sono state scoperte tantissime cose che stanno per accadere si parlerà ragazzi ovviamente dei rift che stanno apparendo in mappa ma vi farò vedere anche dei richiami al vecchio capitolo di fortnite parleremo anche della nuova delle novità sulla rtx e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a vedere il primo argomento di oggi ed è una notizia molto importante per tutto quello che riguarda il discorso free fortnite quindi di nuovo la campagna di epic games versus apple che ovviamente non cenna a diminuire sono pronte ragazzi le nuove il nuovo merchandise come vedete una maglietta una felpa una mascherina che trovate in collaborazione con nef quindi una una società che si è avvicinata a fortnite che ha permesso appunto di poter avere un sacco di nuovo merchandise lo trovate ovviamente cercandolo se volete prendere la vostra maglietta e contribuire alla causa beh questo è il momento giusto anche perché sarà un bel ricordo che rimarrà sicuramente per tanto tanto tempo andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per quanto riguarda dei possibili tornei basati però sullo skill matchmaking mi spiego meglio epigame sta facendo dei test che ancora ovviamente non sono pubblici e quando andiamo a guardare nei file di gioco i nomi dei test si chiama event group some stupid test tournament che è molto divertente come come richiamo ma che sappiamo essere appunto un torneo quindi una particolare novità che potrebbe arrivare nella sezione eventi dedicato a tutti quelli che avranno raggiunto un tot di skill matchmaking non sappiamo ovviamente in base a cosa verranno attribuiti questi punti sappiamo ovviamente pochissimo perché sono dei test ma potrebbe essere l'inizio di tornei basati esclusivamente sulla bravura e non necessariamente legati all'arena quindi ragazzi state molto attenti perché è un argomento che secondo me merita di avere un bel po' di attenzione e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché finalmente arriva per tutti la novità quindi la miglioria del gioco per tutti quelli che utilizzano delle schede grafiche rtx e stiamo guardando infatti il post ufficiale nella pagina twitter di nvidia che dice experience fortnite with rtx on ray tracing and dl ss are coming to fortnite game each ride on the battle bus e collabora per creare il tuo mondo con geforce rtx tra l'altro c'è anche un trailer ve lo voglio far vedere molto velocemente la musica purtroppo è sotto copyright ma come vediamo è davvero molto molto bella questa serie di immagini che ci fa vedere una definizione davvero altissima e una nuova esperienza di gioco per quanto riguarda fortnite in collaborazione con invidia insomma tanta tanta roba il ray tracing ci vorreva davvero una bellissima esperienza infatti qua abbiamo delle immagini proprio con le rtx on e tra l'altro ragazzi vi voglio anche presentare invidia annunce annuncio so bene come si pronuncia annuncia la nuova rtx 3070 e anche una rt no aspetta che andrà a sostituire la rtx 2080 ti ci sono anche delle statistiche qua è più una cosa tecnica ma veramente la serie 30 di invidia è un qualcosa di allucinante si dice che farà giocare tutti i giochi in 8k e avrà una potenza di quattro volte superiore alla loro migliore scheda grafica che dovrebbe essere se non ricordo male appunto la 2080 ti attualmente davvero una cosa incredibile il futuro continua ad andare avanti io non credo sia necessario personalmente acquistarla adesso perché comunque giocare a fortnite si richiede una buona scheda grafica ma non serve andare nel iperspazio e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece arrivano delle notizie davvero interessanti per quanto riguarda i post di reddit vi ricordo che sono quando ci sono tanti condivisioni tanti like tanti commenti su un post di reddit abbiamo già visto in precedenza che epic games tende ad ascoltare la propria community e ragazzi è proprio questo il caso dove ci sono migliaia e migliaia di condivisioni e di like su quattro concept di skin marvel che la community sicuramente gradirebbe avere la prima ragazzi è antman appunto fatto davvero benissimo il secondo è spider man lo stiamo aspettando ragazzi lo stiamo aspettando tutti black panther noi sappiamo che è arrivato solamente il punto di interesse nella giornata di ieri mattina con questa pantera nera gigante ma anche la skin sarebbe tanta tanta roba adesso io non allora beh no nel senso lo vorrei ma mi auguro non sia così perché non me la sento di commentare questo Hulk mi sembra un po spaisato nel senso come si diceva che cavolo però anche Hulk ci starebbe davvero tanto e Gwen come supereroina finale insomma un post veramente interessante la community ha espresso il proprio interesse chissà se ci regaleranno uno di questi supereroi nel futuro e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è il final stage del distant object il nome in game di galactus che sta per arrivare vi ho lasciato ieri senza aggiornamenti perché non ce n'erano per quanto riguarda l'avvicinarsi del divoratore di mondi ma come vedete ragazzi siamo entrati già nell'ultimo stage che vorrebbe dire che molto probabilmente è questione di giorni dove arriverà appunto galactus secondo me però ci vorrà ancora almeno una settimana anche perché ne parlavamo già ieri con l'avvicinarsi così rapido di galactus è molto probabile insieme a tutto il discorso che sta compiendo tony stark quindi i rift beacon che si sono attivati che ci sarà un piccolo mini evento all'inizio barra metà della season che poi ovviamente avrà il suo evento finale quindi la stella brilla sempre di più questa è l'ultima fase staremo a vedere ovviamente quando arriverà veramente galactus e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle informazioni davvero incredibili per quanto riguarda un possibile ritorno di parti di vecchie location mi riferisco ad esempio ad acri anarchici perché se voi guardate quella parte lì in basso red jolly rascal vuol dire allora jolly rascal è il nome dentro il file di gioco dei rift quindi dei portali che vediamo noi in mappa dove possiamo appunto entrarci se ne stanno per attivare quattro o meglio nei file di gioco ce ne sono quattro pronti rosso blu verde e giallo il primo ragazzi che è quello che ci interessa è jolly rascal anarchy acris e anarchy acris ragazzi ovviamente è acri anarchici non sappiamo quando se e soprattutto verranno realmente attivati ma cavolo rivedere dopo tantissimo tempo anche solo una porzione della vecchia mappa beh non potrebbe che riempirci il cuore di gioia ed essere sicuramente una cosa tanto apprezzata dalla community perché poi abbiamo anche bici bluff come blu jolly rascal camp code come green e dirti docks addirittura ragazzi i magazzini muffiti se non ricordo male come yellow rascal anche qua staremo a vedere tra l'altro una curiosità davvero interessante arriva anche dallo spawn rate dei dei pesci che se andiamo a vedere nei file di gioco vengono splittati mi spiego meglio tra poco probabilmente succederà qualcosa sabbie sudate perché sabbie sudate avrà la possibilità di pescare esclusivamente i pesci slurp i preliva pesci in teoria dovrebbero essere non sappiamo ancora perché o semplicemente se stanno facendo dei test ma probabilmente vogliono suddividere le varie location della mappa per pescare i vari tipi di pesci anche qua è tutto molto confusionario perché sono proprio piccole parti che si trovano nei file di gioco non ci sono delle certezze io posso solo dirvi quello che viene scoperto giorno per giorno e ragazzi io direi che per oggi abbiamo già sforato quindi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao